Questa è la via Duranti, la via di Ancona, è chiusa però via centrale. Qui c'è una macchinetta, le serighe blu, bisogna pagare il parcheggio, sono le 18.48 del 12 luglio del 2017 e il Comune di Ancona ha fatto una bellissima iniziativa, io metto i denari, mi dice che con 50 centesimi posso parcheggiare a fine 18.13, schiaccio il pulsante verde, mi arriva il biglietto, dove mi dice che praticamente io posso parcheggiare il 12 aprile del 2017 fino alle 18.13. Poi qui sotto, se vediamo, c'è scritto pure, aspettate che provo un quadra bene, non si vede male, comunque c'è scritto che praticamente McDonald's mi fa una bella sorpresa, vado a vedere dietro, mi dice che mi danno i panini a 5,90 euro, un po' a codine perché non li inquadra, mi danno i panini a 5,90 euro, ma l'offerta vale da fine al 31.12 del 2015, e ricordo che siamo il 12 luglio del 2017, vedi, gustati l'offerta di McDonald's sul retro, tac, giro, due panini a scelta a 5,90 euro, 31.12 del 2015 è la scadenza di questo bollo, bene, grazie Comune, ciao!